Salgono a tre i concertoni sotto le mura del Lucas Summer Festival 2024. Oltre ai due già annunciati della superstar Ed Sheeran dell'8 e 9 giugno, i cui biglietti sono esauriti da tempo, adesso spunta fuori il nome di una autentica leggenda della musica rock. Il promoter Mimo D'Alessandro ha infatti annunciato per il 2 giugno, quindi in apertura di festival, l'esibizione all'ex balilla di Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi dell'ultimo mezzo secolo, che ha scelto Luca per l'unica data italiana del tour di quest'anno. Per il musicista inglese si tratta di un ritorno, si era già esibito in piazza Napoleone nel 2006 ed anche in quel caso il suo era stato il concerto inaugurale della manifestazione. Salgono così a 19 i concerti in programma per il Summer Festival, in un'edizione che promette di battere tutti i record precedenti di biglietti venduti. Già sette i concerti sold out, oltre a Ed Sheeran anche i Duran hanno dovuto raddoppiare la loro esibizione. Suoneranno in piazza Napoleone il 21 e 23 luglio, proprio perché i posti per il primo appuntamento erano andati rapidamente esauriti.